oggi parleremo dell'edit mode, ovvero come editare un oggetto gli oggetti che possono essere editati sono appunto gli oggetti che hanno una base mesh, cioè che contengono dei poligoni senza stare ad approfondire cos'è un poligono e tutto il resto perchè lo vedremo man mano che ci lavoreremo su possiamo iniziare a dire semplicemente che alla base ci sono i vertici che compongono un oggetto questi vertici hanno delle posizioni nello spazio 3D e questi vertici sono connessi tra di loro secondo un certo ordine questa connessione premendo il tasto 2 oppure selezionando edge con questa icona qua ci mostra che sono connessi e creano dei edge, cioè dei bordi i bordi a loro volta creano le facce e queste facce possono essere composte da 3 o più vertici nella modellazione poligonale si utilizzano i cosiddetti quadrilateri si cerca di evitare facce con più di 4 lati e soprattutto si cerca di evitare i triangoli per entrare in edit mode selezioniamo il nostro oggetto e premiamo il tasto tab e come già detto abbiamo qua la possibilità di selezionare o i vertici o gli edge o le facce se teniamo premuto shift possiamo avere la selezione completa di tutto o gli edge o i vertici come vedete la selezione non è molto fluida quindi io consiglio sempre numeri sopra la tastiera 1,2,3 e selezionare di volta in volta quello che vogliamo andare ad editare facciamo un passo indietro, allora noi possiamo andare ad aggiungere tutte le primitive che vogliamo e andarle ad editare ad una ad una ogni faccia, vertice ed edge è sottoposto agli stessi principi degli oggetti in object mode quindi possiamo selezionarli possiamo spostarli possiamo ruotarli logico che ruotando un solo vertice non succede niente però se ne ruotiamo due abbiamo già delle modifiche e possiamo scalarli naturalmente i comandi S per scalare R per ruotare e G per spostare possiamo addirittura selezionare più oggetti contemporaneamente premere il tasto tab ed entrare in edit mode con tutti gli oggetti selezionati un'altra opzione è quella di selezionare ad esempio due oggetti premere CTRL J e andare ad unirli in questo modo gli oggetti come vedete avranno in comune un solo centro questo puntino arancione e se entriamo in edit mode possiamo modificarli entrambi allo stesso modo è possibile separare gli oggetti quindi possiamo selezionare solo un oggetto o solo una parte di esso tipo ad esempio una faccia premere il pulsante P e selezionare separa selezione selezione e questa faccia viene separata siamo in object mode diventa un oggetto a parte con il centro naturalmente che era in comune con gli oggetti vedremo più avanti come gestire il centro allora al momento vediamo i principali comandi per andare a editare un oggetto aggiungiamo un oggetto plane che ha solo 4 vertici e entriamo in edit mode il comando più diffuso per l'edit mode è l'estrusione possiamo estrudere un semplice vertice premendo il tasto E e questo vertice verrà estruso creando un bordo nuovo possiamo estrudere un bordo cioè due vertici selezionati premere E e creeremo una nuova faccia possiamo quindi estrudere una faccia e andremo a creare un oggetto che sarà cavo all'interno ricordiamoci sempre ma tutto questo a cosa ci serve? allora selezioniamo tutto cancelliamo andiamo ad aggiungere un nuovo plane e vediamo cosa succede abbiamo aggiunto un nuovo plane ma siamo in edit mode ebbene si possiamo aggiungere dei plane e delle primitive shift A in edit mode ogni volta che aggiungiamo una primitiva in edit mode questa farà parte dell'oggetto unico quando noi vogliamo creare degli oggetti particolari di solito partiamo dalla modellazione anche di un singolo vertice quindi selezioniamo un vertice premiamo CTRL I premiamo Cance vertice e rimaniamo con un solo vertice possiamo andare a creare dei piccoli oggettini usando alcune funzioni di blender una di queste è lo spin vediamo come funziona posizioniamoci sempre con il cursore al centro e in vista top posizioniamo il vertice più o meno in alto di 3 quadretti e estrudiamo un po' di forme e creiamo un profilo possiamo andare a creare un profilo di una classica giara o un vaso o una bottiglia e andiamo a vedere che cosa succede se noi selezioniamo tutto e andiamo a usare il comando spin se noi andiamo a fare lo spin vedete andiamo a creare una rivoluzione della parte selezionata quindi se vogliamo andare a creare una rivoluzione sull'asse delle Y dobbiamo andare a posizionarci in questa vista qua e andiamo a provare a fare il nostro spin in vista frontale cosa succede? non ce lo permette questo perchè l'allineamento dello spin è collegato all'allineamento del pivot in questo caso il pivot è in vista globale premiamo CTRL Z andiamo a selezionare il pivot come view quindi andiamo a ruotare e creiamo il nostro spin se teniamo premuto CTRL vediamo che abbiamo la possibilità di andare un po' a scatti diciamo naturalmente possiamo andare a modificare il valore e il numero degli step e altre proprietà questo dupli significa che va a duplicare invece di andare a distrudere automerge chiuderà in automatico il nostro spin ora se noi andiamo a cliccare fuori dal nostro oggetto abbiamo applicato questa trasformazione che significa che non potremo più tornare indietro e andare a modificare i parametri l'unico modo per tornare indietro è fare CTRL Z e rifare lo spin andiamo a rimodificare il pivot come global e abbiamo creato il nostro vaso l'abbiamo creato in una posizione un po' strana ma l'ho fatto anche per farvi vedere che possiamo andare a selezionare premere R e selezioniamo l'asse X e 90 gradi e andiamo a ruotare il nostro oggetto di solito quando si va a creare uno spin o delle estrusioni un po' complicate si vanno a creare delle facce con delle strane ombreggiature queste ombreggiature dipendono dalle cosiddette normali le normali indicano a Blender qual è la faccia che da verso l'esterno e qual è il lato della faccia che da verso l'interno per vedere dove sono rivolte le normali andiamo nel menu overlay e proviamo a selezionare le normali delle facce che è questa icona qua e vediamo che le nostre normali sono rivolte verso l'interno da cosa lo notiamo? lo notiamo se noi andiamo in modalità wire che questi trattini puntano verso l'interno se infatti siamo in solid noi non li vediamo per regolare le normali basta selezionare tutto premere shift n e vediamo qua l'opzione che ci permette di dire inside o outside in questo caso le vogliamo esternamente abbiamo creato la nostra jarra e abbiamo visto come usare alcuni semplici comandi di edit mode per chiudere qua possiamo semplicemente andare a selezionare legge loop premendo alt e tasto sinistro del mouse premiamo extrude cioè E vedete? premiamo S cioè la scala e scaliamo a 0 ora abbiamo tutti i vertici centrali selezionati quindi premiamo F3 e cerchiamo un comando che si chiama remove double e da tutti i vertici verrà creato un solo vertice torneremo più avanti sui comandi di edit mode e perchè sono comandi che sono quattro comandi in croce che verranno utilizzati praticamente nel 90% dei casi per ora vi lascio con le vostre sperimentazioni se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perchè sono in arrivo una valanga di video soprattutto sulla 2.8 e saranno di livello sempre più avanzato con esercitazioni sempre più pratiche alla prossima grazie buona giornata